Quella di oggi potrebbe rivelarsi una giornata decisiva per il Teramo e il suo futuro assetto societario. Nell'azienda di Campitele infatti è atteso il legale campano Giovanni Palma, che dovrebbe sedersi al tavolo proprio con il numero uno bianco-rosso per valutare la fattibilità di un accordo, che prevederebbe allo stato attuale una cessione di una quota consistente ma di minoranza del sodalizio bianco-rosso. L'interesse è confermato dallo stesso Palma anche per l'Aquila, ma sotto un'altra forma, aiuto che dovrebbe passare attraverso una o più sponsorizzazioni per il rosso-blu, ha inevitabilmente rimescolato le carte della trattativa. E le basi 50-50 con passaggio in uno o due anni allo stesso Palma potrebbero non essere più le stesse. Sullo sfondo tuttavia ci sarebbe anche un altro nome che potrebbe diventare caldo a bravissima scadenza. Quello di Franco Iachini, l'imprenditore teramano accostato nei giorni scorsi alle vicende relative alla Teramo Ambiente e dopo aver visto tramontare la prospettiva sembrerebbe intenzionato ad aprire un tavolo di trattativa con la società bianco-rossa. Nessuna ipotesi e nessuna percentuale per il momento, ma c'è l'interesse e l'abboccamento da parte di Iachini, che a giorni, se non ad ore, potrebbe incontrare proprio Campitelli per formulare una proposta nell'eventualità in cui con Palma non dovesse esserci un accordo. Ma quella di oggi è una giornata dedicata al capitolo collegale campano, solo dopo si potrebbe aprire uno scenario differente. Il tutto però continua a rimandare le questioni che riguardano la costruzione della Rosa da mettere a disposizione di Maurizzi, confermato anche per l'anno prossimo. Per quanto riguarda però le questioni più puramente di campo sarà a Rivisondoli, la sede del ritiro estivo bianco-rosso, una location che era stata scelta in quell'estate 2015 nella quale il diavolo si preparava con la paura di non poter disputare, come poi è stato, il campionato di Serie B che aveva conquistato solo qualche settimana prima nella trasferta di Savona. Nel centro dell'altro Sangro, peraltro, il Teramo guidato all'epoca da Antonino Aste è tornato due stati fa quando ha affrontato la Fidelisandria in un'amichevole in preparazione alla Coppa Italia dopo aver svolto il ritiro ad Alfedena. Ma nelle ultime due stagioni la società bianco-rossa aveva optato prima per Ovindoli con Lamberto Zauli in panchina, Alfedena appunto con Asta e la passata stagione la novità della preparazione con Zichella svolta in sede a Teramo.